L'arancione e il verde, due colori che caratterizzano questa mattinata, l'ultima del mese di giugno del pronto soccorso di Pesaro. L'arancione delle divise dei volontari della Onlus Gulliver, il verde delle calzature donate dai volontari della Onlus al personale del pronto soccorso. Una donazione importante, un gesto di vicinanza della cittadinanza ad una categoria lavorativa perennemente sotto pressione dalle periodi del Covid, ma non solo questo, un gesto piccolo l'ha descritto il direttore di Gulliver, Andrea Boccanera, ma dal grande valore, molto apprezzato dal personale e dalla direzione dell'ospedale e del pronto soccorso. La Gulliver sarà andata molto bene, la cittadinanza ci è vicina con il circolo di riuso, quindi riusciamo a fare delle donazioni a chi se lo merita. Il pronto soccorso, medicina e urgenza, ha delle persone fantastiche al loro interno, lavorano quotidianamente e sudano per la città. Le calzature vogliono essere un piccolo riconoscimento, un investimento non da poco, perché parliamo di più di 100 calzature, vogliamo dire che vi siamo vicini e vi diciamo grazie. Sono effettivamente grato alla Gulliver, di questa vicinanza, che è testimonianza della vicinanza di tutta quanta la cittadinanza. Per noi che crediamo in un sistema sanitario universale e siamo ancora qua come servizio per la cittadinanza. E' anche molto simbolico secondo me, perché regalare delle calzature vuol dire andare la marcia, il senso della marcia, quindi andare sempre avanti e mai tornare indietro. E questo è bellissimo. Io vado sul significato dei due colori, arancione e verde. L'arancione esprime l'estate, l'armonia, la pace e la serenità. Il verde e il verde speranza. Due colori importantissimi. Penso che il messaggio lo danno tutti loro per il bene che fanno quotidianamente e noi non possiamo che ringraziare. Grazie.